Due rompi! Ehi, aheh. Mi parte del gajo. Ehi! Ehi, es un personaggio! Ehi! Ehi! Es un personaggio. Un repartitore! Oh, la motore! La motore! La motore! E' interato? Oido cocina! Un repartitore E' il rizzo dante E' tranquillo, e' a torlao Llega tardi E' tan evidente Che non lleva prisa Che non sape qual è cartone E qual è la pizza E' ora che se ha chato Novia che in cada reparto Pasa por su casa E le da un repaso E' quando llega A casa lo cliente Con la pizza fria Menos la suya che va caliente Fettuccini Cannelloni Spaghetti Spaghetti Bolognesa Con lo buona che sta una pizza Non imbbowo Tungla Spaghetti Anni Con lo buona che sape Chi se ha cort unravel? Sulla è un' erio Super E' interato. Polito Cocina, il Gran Bailari, Antonio Canale. E' la playita, lo brillaron in franti, fumando a paci, se bego todo il dia. E' Antonio Canale, sempre comia, sempre comia, ha demostrado, sobre todo, ser un tio valiente. E' de lo ocurrido, nada se arrepiente, que le critiqui a el nor de la mena, lo que le cabrea que el vivero estaba lleno a mena. Fettuccini, fettuccini, caneloni, caneloni, e spaghetti, fettuccini, bolognesa, con lo whey, na che c'ha una pesa. Molto bene! Simbo, simbo! Andiamo, andiamo! Sì, vettore! Sì, vettore! Sì, vettore! Quando è severanno? Oh, no, no, no! E' interato? Polito Cocina! Polito Cocina! Quando è severanno? Arno è troppo e vino. Los alemanes expulsaron sin motivo. Toda pañatella se quedò perplega. Y es que la merca è ma che pepino media da mea. Muchos famosos se prestaron pa' grabar un video. Comiendo pepino pa' darle prezillo. Salía mucho en todas las cadenas. Y salió el canale que se lo pongas a con arena. Paneloni, paneloni, espaguetis, espagueti, bolognesa. Por lo cuenta que c'ha una pesa. Grazie, mille, mille gác. Grazie mille, mille gác.